Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qualche giorno fa ho portato sul canale la prova dell'SG108, però questo drone della ZLRC è un drone low cost che costa 98 euro, un prezzaccio secondo me per un drone di questo tipo perché vola che è una meraviglia e rispetto alla versione precedente ha un gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi, però purtroppo la qualità video che pur nettamente migliorata rispetto all'SG108, cioè la versione precedente, è sicuramente molto più stabile, sente molto di meno i cambi di direzione perché appunto avendo un gimbal però c'è un tremore continuo, questo tremore che probabilmente è causato dall'ammortamento della videocamera perché il gimbal secondo me non è niente male per essere un gimbal low cost, va a compensare benissimo i cambi di direzione del drone però purtroppo ha costantemente questo tremore l'immagine che stiamo guardando, però un mio iscritto che vado a ringraziare che si chiama Alessandro Ita91 mi ha inviato una porzione di video stabilizzata benissimo e allora a quel punto gli ho chiesto come avesse fatto a stabilizzare l'immagine in una maniera così impeccabile da renderlo quasi fatto da un DJI, ovviamente sto esagerando, però una stabilizzazione davvero niente niente male e lui mi ha detto che ha usato lo stabilizzatore che viene dato nell'applicazione foto dei telefoni Android, cioè quella creata da Google, questa applicazione che tutti i telefoni Android hanno di default e appunto ha questa funzione di stabilizzare un video che abbiamo creato con qualsiasi device e sono rimasto a bocca aperta. Io uso poco il mondo Android perché uso ormai da tantissimi anni iPhone, Android lo uso solo per determinate cose quando appunto devo provare cose che non esistono su un telefono iPhone e a quel punto ragazzi ho provato con il mio Xiaomi e sono rimasto davvero a bocca aperta. L'unica cosa è che il file dell'SG108 così come viene creato dal drone viene sì aperto dall'applicazione foto di Google quindi lo possiamo guardare e modificare ma non ci fa fare la stabilizzazione quindi dobbiamo andare a diciamo risalvare il video con un formato diverso quindi potete usare un qualsiasi player multimediale, io ho usato QuickTime perché appunto ho un Mac o anche un player tipo ULC quindi questi player che ci fanno risalvare il video in un formato diverso cioè creato da loro ci mettono veramente poco e salvano il video così come è ma con un formato diverso. A quel punto allora una volta che l'ho risalvato con QuickTime quindi sono rimaste le caratteristiche che aveva il video quindi un 2,7K con il bit rate che aveva quando è stato creato dall'SG108 l'ho trasferito nel telefono Xiaomi a quel punto allora mi ha fatto fare la stabilizzazione e ragazzi il risultato è incredibile e allora a quel punto mi sono detto vabbè vado ad installare l'applicazione foto nell'iPhone perché comunque è disponibile sull'App Store l'applicazione foto di Google e lo faccio tramite l'iPhone purtroppo non si può nel senso che l'applicazione foto c'è posso caricarci il video ma la funzione di stabilizzazione nella versione per iPhone al momento non c'è non so se verrà mai integrata se una scelta di Google di non integrarlo se magari arriverà con qualche aggiornamento non lo so ma attualmente non c'è proprio diciamo la funzione di stabilizzazione dei video nell'applicazione foto per iPhone e allora a questo punto ho cercato un'applicazione che faccia una cosa simile su iPhone e ho trovato Emulsio un'applicazione che funziona bene ha un sacco di funzioni possiamo andare a cambiare anche un po' di parametri per quanto riguarda il video nuovo che andiamo a creare stabilizzato e il risultato non è niente male non è secondo me a livello di quello di Google secondo me quello di Google un qualcosina in più però la stabilizzazione è comunque una stabilizzazione che ci rende il video piacevole da guardare una pecca negativa che ha questa applicazione per iPhone che è a pagamento costa 11 euro e 99 se invece la vogliamo utilizzare senza pagarla possiamo ma avremo in basso il logo dell'applicazione perché comunque per andare a toglierlo dobbiamo pagare 11 euro e 99 che è una spesa diciamo una tantum non è un abbonamento però bisogna farlo e io non l'ho ancora comprata perché comunque ho voluto provarla prima e tra le varie caratteristiche se la andiamo a comprare a parte la possibilità di andare a stabilizzare anche i video in 4k che non abbiamo se non compriamo la versione a pagamento c'è scritto che anche la stabilizzazione è migliore quindi magari usando quella a pagamento si raggiunge il livello di quella di Google è vero che 11 euro e 99 non sono pochi per un'applicazione però se ci risolve tanti problemi in alcuni video che andiamo a creare con magari dei device che non hanno una gran stabilizzazione potrebbe essere un investimento che ci sta tutto perché comunque andiamo a rendere piacevoli dei video che magari potremmo non utilizzare ma non solo fatti con dei droni ma anche fatti magari con lo smartphone che se abbiamo uno smartphone che non stabilizza l'immagine cioè capite che diventa una cosa davvero utile quindi detto tutto questo è arrivato il momento di vedere i video come erano creati da SG108 e come sono stati stabilizzati questo che state guardando adesso è il pezzettino di video che ho registrato con la SG108 quando l'ho recensito e vedete che a livello di qualità di immagine secondo me non è niente male come sto parlando come definizione come dettaglio per essere un drone da 98 euro come colori secondo me è davvero buono per 98 euro a livello di fotocamera però ha questo tremore continuo mentre adesso vi faccio vedere come è il risultato dopo essere passato nella stabilizzazione foto di google il risultato ragazzi è questo e vedete che è tanta tanta roba quando vi dicevo che sembra fatto da un dj ovviamente ho esagerato però capite che è stato fatto con un drone da 98 euro che aveva quel tremore e adesso guardate il risultato comunque la qualità dell'immagine è rimasta buonissima a livello di dettaglio di colori di definizione e il risultato secondo me adesso è davvero piacere questo è un video che si può utilizzare ovviamente non facciamo un video professionale anche perché uno che vuole fare un video professionale non compra un drone a 98 euro però per un uso proprio per crearsi dei video personali secondo me il risultato qua è già davvero incredibile adesso vi faccio vedere invece il video creato con emulsio l'applicazione che appunto vi dicevo per iphone e il risultato è questo vedete che è un pochino più mosso rispetto a quello di google però rimane comunque un video super utilizzabile cioè diventato davvero un video piacevole da vedere a differenza appunto dalla versione precedente che è questa riguardatelo cioè guardate che tremore che c'era comunque nell'immagine sebbene non era una roba scandalosa nel senso che comunque la stabilizzazione a livello di gimbal ma c'è comunque questo tremore fastidioso quindi ragazzi davvero non pensavo che l'applicazione google avesse questa stabilizzazione perché ripeto non la utilizzo non utilizzando telefoni android in maniera costante e come abitudine e devo dire che sono rimasto davvero affascinato ovviamente tutto semplicissimo quindi si entra nell'applicazione si carica il video si clicca sul pulsantino quel simbolo quel quadratino che si muove in basso a sinistra e inizia il processo di stabilizzazione ed è davvero davvero semplice ovviamente i tempi della stabilizzazione variano in base alla tipologia di video che andate a caricare cioè da quanto bitrate ha il video tipo i video della SG108 hanno un bitrate basso quindi il video è molto leggero e quindi la stabilizzazione sarà molto più veloce nell'essere eseguita e poi anche dalla lunghezza del video quindi tante cose vanno a modificare quello che è il tempo di stabilizzazione e poi soprattutto anche le prestazioni del telefono che utilizzate cioè un telefono economico ci metterà molto più tempo di un telefono con un hardware molto prestazionale a fare appunto questa stabilizzazione mentre per quanto riguarda emulsio è più o meno la stessa cosa vedete che abbiamo comunque un'interfaccia semplice qua possiamo addirittura andare a selezionare i movimenti di stabilizzazione che vogliamo andare a stabilizzare e poi possiamo modificare alcuni parametri anche dell'esportazione video cioè dal codec dalla risoluzione cioè veramente è bella completa come applicazione sebbene è questa è che state vedendo la versione gratuita quindi con la pagamento dovrebbe avere delle funzioni ancora in più è anche una migliore stabilizzazione oltre che supportare il 4k che la versione diciamo gratuita non supporta quindi ragazzi spero che questo video vi sia utile spero che di avervi spiegato una cosa che magari non conoscevate come non la conoscevo io per quanto riguarda appunto la stabilizzazione di google e il risultato che si può ottenere con un drone da 98 euro vi lascio il link del sg 108 pro in descrizione perché ragazzi la qualità video qua adesso è impeccabile veramente super utilizzabile e per quanto riguarda il dettaglio e colori ragazzi niente da dire secondo me per una telecamera di un drone a 98 euro non si può veramente chiedere di più da quel punto di vista e il risultato con la stabilizzazione se poi addirittura si ha un telefono android la stabilizzazione è gratuita quindi è solo un passaggio in più che dobbiamo fare anche se come vi ho detto va fatto un passaggio ulteriore nel convertire l'immagine in un formato che non sia quello creato del sg 108 perché altrimenti il video come vi ho detto all'inizio viene sì visto dall'applicazione foto ma non ci fa fare la stabilizzazione cioè se noi clicchiamo sul simbolo della stabilizzazione non fa niente cioè non inizia il processo di stabilizzazione mentre se andiamo a risalvare il video con quick time con vlc con qualsiasi player multimediale che abbiamo nel nostro computer a quel punto vedrete che la stabilizzazione verrà eseguita quindi ragazzi questo video in cui vi ho fatto vedere come fare diventare il vostro sg 108 pro con dei video quasi alla dj e vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler infatti è arrivato anche lo spoiler di questo video stabilizzato in cui chiedevo quale drone l'avesse fatto se un drone sopra i 100 euro sotto i 100 euro che comunque è una stabilizzazione di video secondo me niente male quindi ci stava a fare una domanda del genere quindi seguitemi su instagram dove porto anche stampe 3d voli in fpv sempre se vi va iscrivetevi al mio canale terreno offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube che non perdivi neanche un video un volo una recensione un test tutorial una novità ciao